Tematica bike sharing, tornata alla ribalta perché lo spettacolo è poco edificante di questi stalli con bici ma ridotte, sicuramente non è un bel biglietto da visita, come si può fare per migliorare questo aspetto? Noi abbiamo voluto fare la nostra proposta di eventualmente capire che se effettivamente non ci fosse l'interesse da parte della città, una proposta potrebbe essere quella di affidarla agli alberghi, agli hotel per offrire un servizio in più, offrire un servizio in più ai nostri turisti in modo tale che possano girare la nostra città e anche le città limitrofe attraverso questo servizio ciclabile. Oppure cercare di riprendere in mano la situazione su come fare pubblicità, una maggiore pubblicità del servizio, magari proponendo la gratuità del servizio per i residenti stessi. Quindi non è solo un fatto di strutture o infrastrutture, è anche una questione culturale? È una questione culturale, certo, è una questione di mentalità, finché avremo la preferenza di fare 10 metri in macchina, ovviamente il problema rimane. Se abbiamo le strade congestionate dal traffico e poi ci lamentiamo, la politica deve trovare i mezzi per convincere i cittadini a dire che questa cosa è meglio. Questa deve essere la politica che viene portata avanti in tutta Europa, in Europa hanno risposto in tanti, il bike sharing funziona e il bike sharing può funzionare anche a Fano. Questa deve essere la politica che viene portata avanti in tutta Europa.